Buonasera a tutti. Ringrazio Susanna Di Pietra e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. Il bilancio di oggi è il totale delle persone attualmente positive 106.962 con un incremento di 355 rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi sono infatti 2.812 pazienti in terapia intensiva con una diminuzione di 124 pazienti rispetto a ieri. 25.786 sono i ricoverati con sintomi. Qui abbiamo una diminuzione rispetto a ieri di 1.107 pazienti. È il dato più basso registrato dal 27 marzo. La maggior parte dei pazienti sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 78.364, pari al 73% del totale. Oggi registriamo 575 nuovi deceduti mentre il numero dei guariti sale a 42.727. Ci sono 2.563 guariti in più rispetto a ieri e il numero più alto in assoluto dall'inizio dell'emergenza. Altro dato importante è il numero dei tamponi, quasi 66.000 tamponi effettuati, 65.705. Per quanto riguarda le forze in campo registriamo 19.913 volontari che si aggiungono al personale delle strutture operative e al personale sanitario e delle regioni. Le tende di pretriage sono 878, le tende di pretriage nelle strutture sanitarie e 151 sono le tende di pretriage negli istituti penitenziari. 878. Le somme raccolte sul conto corrente delle donazioni aperte dal Dipartimento della Protezione Civile sono complessivamente 127.772.368. Questi fondi sono stati utilizzati già per 34 milioni di euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori per le nostre strutture sanitarie. Voglio anche ricordare che domani è in partenza un altro contingente della task force dei nostri infermieri che hanno risposto al nostro bando. Sono 99 infermieri che andranno nelle regioni maggiormente colpite dal coronavirus. I dati sanitari di oggi ci indicano ancora una volta che si è decisamente alleggerita la pressione sulle strutture ospedaliere, questo è un dato che nelle ultime settimane si è fortunatamente consolidato. Tutto ciò ci rende consapevoli che il grande lavoro svolto negli ospedali, le misure di contenimento attuate e la collaborazione dei cittadini ha reso possibile il rallentamento della curva dei contagi. In questa fase dell'emergenza abbiamo deciso quindi di rimodulare le nostre conferenze stampa, continueremo a garantire il massimo della trasparenza sui dati e ogni giorno forniremo sul nostro sito e sui nostri social l'aggiornamento della situazione, mentre sempre due volte la settimana, il lunedì e il giovedì sempre alle ore 18, terremo questo punto stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Questi punti si affiancheranno, come sapete, ai punti già programmati dal Commissario Arcuri che sono previsti il martedì e il sabato alle ore 12 e dall'Istituto Superiore di Sanità il venerdì mattina alle ore 12. Infine voglio ricordare che qualche sera fa, qui in questo Dipartimento, abbiamo sentito tutti quanti le parole dell'ex Ministro Guidi sul tema della disabilità e di quanto questo tema sia ancora più delicato durante questa emergenza. Il giorno seguente vi voglio dire ho ricevuto una lettera, la lettera del signor Elio, padre di un ragazzo affetto da autismo. Nella lettera c'era tutta la difficoltà di un genitore alle prese con una situazione difficile e resa ancora più complessa dall'emergenza che stiamo vivendo nel nostro Paese. Come Capo Dipartimento so che il nostro Servizio Nazionale della Protezione Civile ha le risorse, le competenze e le professionalità per supportare e prendersi cura e aiutare queste persone. Ho parlato a lungo con il signor Elio e gli ho manifestato tutto il mio sostegno e quello dei volontari di protezione civile che in Italia operano con professionalità proprio al fianco delle persone più fragili. Quel papà, nel ringraziare me e il sistema di protezione civile, ha deciso di indirizzarmi un'altra lettera che vuole condividere con tutti quanti noi. Sarebbe impossibile leggerla tutta per intero. Ci sono parole di dolore ma nemmeno per un attimo quei sentimenti dolorosi riescono a far vacillare l'amore e la speranza che quel padre nutre e custodisce. Queste sono le parole che il papà ha dedicato al suo ragazzo. Da allora, da quando al figlio è arrivata la diagnosi di autismo, abbiamo fatto ancora altri viaggi. Ogni volta che preparavamo le valigie, dentro lasciavamo sempre uno spazio. Perché quello spazio? Come l'abbiamo definito noi, era lo spazio riservato alla speranza. Spero davvero che le parole di questo padre, che è solo uno dei tanti genitori o familiari di persone che, oltre la crisi attuale, ogni giorno affrontano piccole e grandi sfide personali, siano un esempio, uno sprone per tutti quanti noi. Grazie. Professore, prego. Grazie. Buona serata a tutti. Credo che la chiusura del Dottor Borrelli in qualche modo abbia aperto uno spaccato su alcune prospettive diverse che ha creato la diffusione epidemica di SARS-CoV-2, in particolare su tutto quello che ha comportato, in termini di impegno e anche, diciamolo, di dolore per una fetta della popolazione, questa situazione epidemica al di là del numero dei deceduti su cui ritornerò tra poco. Volevo fare, come al solito, qualche considerazione che in qualche misura credo possa essere utile per definire lo scenario attuale. Prima il Dottor Borrelli vi ha citato i numeri sui ricoverati in ospedale, in particolare sulle terapie intensive. E allora se ci riportiamo indietro, di sole due settimane, precisamente al 3 di aprile, c'erano ricoverati nelle terapie intensive 4.063 pazienti. Oggi questo numero è sceso a poco più di 2.800. Questo evidentemente dà un'idea di quanto possa essersi alleggerita la pressione. In qualche modo consenta a chi si occupa di intensività di avere maggior raggio nella gestione non solo dei malati di Covid-19 ma di tutti quelli che hanno bisogno di un ricovero in terapia intensiva. E mi permetto di ricordarvi che prima che iniziasse la situazione emergenziale epidemica il numero dei posti nelle terapie intensive superava di qualche centinaio e 5.000. Quindi immaginatevi quando ce ne erano più di 4.065 quello che era la difficoltà per garantire l'adeguata assistenza a chi comunque ha bisogno di terapia intensive per motivi diversi da Covid-19. L'altro dato importante che vi ha citato il Dottor Borrelli è il numero di tamponi, il numero dei positivi. Allora anche qui faccio una riflessione. Se lo normalizziamo il numero dei positivi o meglio se calcoliamo la percentuale sul numero dei tamponi siamo esattamente al 5.35% giù di lì. E anche questo è un ulteriore indicatore dell'efficacia delle misure intraprese in termini di distanziamento sociale, di lockdown per contenere la diffusione epidemica. Ma il Dottor Borrelli vi ha anche parlato del numero dei deceduti e allora lo uso il numero dei deceduti oltre che evidentemente per rendere loro l'omaggio di un rappresentante dello Stato, quale io in questo momento sono nel mio ruolo di Presidente del CSS, per ricordarvi e ricordarci che domenica è la giornata per la donazione di organi e tessuti. E credo che questi numeri che hanno, fatemi usare questo termine, artigliato le nostre coscienze, le nostre sensibilità, debbano indurci a riflettere su quella che è la cultura della donazione di organo. Cultura della donazione che non è mai sufficientemente promossa e che deve permeare le coscienze di ognuno di noi. Perché con la donazione di organo si possono riallacciare fili esistenziali che altrimenti rischierebbero di andare irrimediabilmente perduti e perché solamente donandosi si dà un senso compiuto alla nostra esistenza. Chi non si dona è come un seme che non germoglia. E oggi, dal 26 febbraio, il Centro Nazionale Trapianti, con la sua attività di coordinamento, ha garantito addirittura 330 trapianti di organo. Per non parlare dei trapianti di cellule staminali emopoietiche che vengono coordinati in collaborazione col registro dei donatori di midollo osseo, sito presso l'ospedale Galliera di Genova e a cui pure va la mia più profonda gratitudine, certo, di rappresentare il sentimento degli italiani. Il terzo punto di riflessione, visto che tanto se ne parla, riguarda i tessi erologici. Anche qui vorrei provare a riassumere alcuni aspetti che pertingono alla realizzazione dei tessi erologici. Per dire che ci permetteranno di condurre il cosiddetto studio di sieroprevalenza, cioè la determinazione della percentuale di persone che, risiedendo in Italia, sono entrate in contatto, se preferite, sono state contagiate da SARS-CoV-2, cioè dal coronavirus responsabile nelle forme più gravi della malattia. Di fatto questo test di sieroprevalenza verrà condotto impiegando o test ELAISA o test di chemoluminescenze, i cosiddetti KIT-CLIA, per avere informazioni solide e affidabili. Proprio per questo motivo il Comitato Tecnico Scientifico di cui faccio parte ha fornito al Commissario Arcuri le indicazioni su come articolare la scelta. Cioè a dire elevatissima specificità sopra il 95%, elevatissima sensibilità sopra il 90%, test validato o da laboratori o da organismi nazionali o internazionali, test realizzabile su larga scala sul territorio nazionale con almeno un laboratorio per regione in grado di, o provincia autonoma, di condurre l'esame sierologico e test che dovrà fornire risposte rapide per avere in tempi assai brevi tutte le informazioni che saranno utili da ottenersi rispetto al test di sieroprevalenza. E nelle prossime ore verrà resa pubblica una call per tutte le aziende, tutti gli interlocutori che ritengono di avere dei test che rispondano esattamente a queste caratteristiche. La call sarà aperta per cinque giorni, dopodiché un panel identificato dal Commissario Arcuri allo scopo con competenze tra loro complementari procederà all'identificazione del test che verrà selezionato per la conduzione di questo studio di sieroprevalenza su un campione di 150.000 residenti in Italia, selezionati in collaborazione e con il contributo di Istat in funzione del genere, di fasce di età, sei fasce di età, di rappresentazione regionale perché, come abbiamo detto sia io sia i miei colleghi, più di una volta ci aspettiamo diversi tassi di sieroprevalenza nelle differenti regioni e anche profili lavorativi. Deve essere ben chiaro che questo studio di sieroprevalenza verrà condotto in collaborazione con le regioni e questa per me è l'occasione per ringraziare tutte le regioni e le province autonome che indistintamente, unanimemente, se preferite, hanno dato piena adesione alla conduzione di questo studio di sieroprevalenza. L'ultima riflessione la dedico ancora una volta ad AIFA perché AIFA sta facendo, me l'ho sentito un po' ripetere come una sorta di refrain, ma secondo me non è mai sottolineato abbastanza il ruolo che l'Agenzia italiana del farmaco ha svolto. Ha valutato qualcosa come 93,93 progetti di ricerca. Ne ha approvati 19 e 10 di questi progetti di ricerca o studi clinici o protocolli clinici, chiamateli come volete, sono già stati avviati. Questo è un risultato straordinario che è stato raggiunto, se ci riflettete, esattamente in un mese solare e che rappresenta, se vogliamo, anche una sorta di punto di svolta per l'efficienza del sistema di conduzione di studi clinici nel nostro Paese. Ma oltre a questo AIFA si è fatta garante anche di tutto quanto inerisce alla farmacovigilanza dell'elaborazione di linee guida per il trattamento dei pazienti al di fuori degli studi clinici, con una presentazione sul proprio sito di materiale formativo ed educativo dedicato allo scopo e anche si è fatta garante di poter assicurare a tutte le strutture sanitarie le adeguate forniture farmacologiche per evitare quello che si chiama lo shortage. In questa situazione così drammatica, così impegnativa, che il nostro Paese è stato chiamato ad affrontare, credo che certamente quanto realizzato da AIFA rappresenti una nota assolutamente lieta, così come lo è stato e anche qui mi ripeto il contenere il rischio di diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle regioni dell'Italia centrale nel sud del Paese. È di fatto ormai un dato solidamente corroborato dall'evidenza dei numeri e non a caso anche oggi ben 13 tra regioni e province autonome, come potete vedere dalla tabella che il dottor Borrelli e tutta la protezione civile vi ha fornito, hanno un numero di decessi inferiore alle due cifre, addirittura due regioni fortunatamente non hanno avuto casi fatali. Grazie. Allora diamo spazio alle vostre domande. Buonasera Gianluca Semprini, ReNews24. Sono dati sicuramente positivi e testimonianza il fatto che di fatto interrompete la conferenza stampa giornaliera anche per la minor pressione sugli ospedali. C'è qualcosa che però ancora non torna. Anche oggi più 3.500 i contagiati e vi chiedo, è vero che ci sono stati molti tamponi, c'è il più basso tasso rispetto al tampone circa 5,3%. Però il problema non starà nell'isolamento domiciliare proprio. Abbiamo 78.000 persone a casa che sono di fatto positive. Oggi il professor Paolo Branchini, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, studioso della Curva, ha detto chiaramente, l'avrete letto sul Corriere della Sera, guardate che a Wuhan quando si sono resi conto che a un certo punto questo plateau che stiamo vivendo da ormai dieci giorni non scendeva, hanno capito che il problema stava nell'isolamento domiciliare e quelle persone le hanno messe proprio in quarantena da sole. Ecco, non pensate che sia questo il problema. Abbiamo 78.000 persone nelle case con i parenti che sono comunque contagiate. Ricorderete, a proposito di Wuhan, i 55 italiani che tornavano da Wuhan e li abbiamo messi 14 giorni alla Cecchignola e non erano neanche positivi. Però attualmente teniamo 78.000 persone a casa contagiate. Chi vuole rispondere? Grazie. Rispondo io e poi se vuole aggiungere qualcosa il Professore. Intanto noi abbiamo, sin dall'inizio dell'emergenza, avviato una ricognizione nell'ambito delle strutture operative per individuare dei luoghi in cui assicurare per chi non può, non ha spazio nelle proprie case, di effettuare la quarantena. Abbiamo circa 7.000 posti nelle strutture operative che avevamo censito già a fine febbraio, inizi di marzo. Ci sono tutta una serie di strutture che abbiamo autorizzato insieme con le regioni e gli enti locali dove poter accogliere le persone che hanno bisogno di spazi per essere isolati e poter effettuare la quarantena in sicurezza. Stiamo anche facendo un censimento. Questo l'abbiamo avviato sabato scorso, doveva terminare oggi, lo vedremo domani. Perché stiamo facendo una ricognizione effettivamente di quelle che sono le strutture messe a disposizione dalle regioni e degli enti locali. Vi ricorderete che abbiamo parlato anche delle strutture per i senza fissi di Mora. È un'attività che abbiamo avviato con gli enti locali e con le regioni delle quali a breve avremo anche un dato statistico dei posti resi disponibili che vi forniremo. Sicuramente si tratta di alcune decine di migliaia credo di posti e quindi ci sarà la possibilità per chi ne ha bisogno di poter essere ospitati in queste strutture. Mi permetto di dire che nel modello credo ulteriore di gestione di questa pandemia l'idea anche di associare agli ospedali Covid Hospital delle strutture satellite, un po' come è accaduto qui per il Gemelli a Roma, credo che sia uno dei modelli da portare avanti. Ma su questo lascerei la parola al Professore. Chi sta a casa a sapere dei 3.500 nuovi contagiati, voi sapete quanti di questi effettivamente erano in casa con persone già positive in isolamento domiciliare? Allora a questa domanda le rispondo io. In questo momento non c'è l'evidenza di quanto derivi dal contagio domiciliare piuttosto che da altre vie. Però è indubitabile che il contagio domiciliare in questo senso possa contribuire in maniera significativa. Quindi tutto quello che è stato declinato come i cinque punti rispetto ai quali puoi costruire la progettualità della cosiddetta fase 2 ha un'attenzione particolare sia per quanto pertiene alla medicina di territorio sia per quanto riguarda la parte proprio di telemedicina piuttosto che di contact tracing che potrà essere utile in questa prospettiva. sottoscrivendo appieno quanto ha detto il Dottor Borrelli rispetto alla possibilità per chi non ha le condizioni strutturali nel proprio domicilio di poter garantire un isolamento da parte dei soggetti contagiati. Buonasera, sono Claudia Fusani per Tiscali News. Io ho una domanda per entrambi e però torno un attimino indietro. Scusate se lo faccio. Nel 2018 il Governo mette a punto un piano anti pandemie sulla scorta di alcune pandemie che erano già state, non avevano colpito così. Sì, parliamo della MERS, parliamo di SARS, eccetera. Quel piano esiste, sono 74 pagine più qualche allegato. Si pone 5 scopi, ci sono 7 passaggi chiave. Io adesso l'ho letto così abbastanza bene, credo comunque. Insomma ci sono alcune cose che sono molto chiare. Per esempio che i percorsi degli ospedali dovevano essere divisi. che le persone in caso di pandemia non sarebbero dovute andare nel pronto soccorso ma dovevano essere curate a casa. Che la medicina territoriale avrebbe dovuto, doveva essere sensibilizzata su questo e doveva essere pronta a uno scenario del genere. E tante altre cose che leggendole ho pensato. Ma guarda, se le avessimo fatte forse le cose si sono andate in maniera diversa. La domanda è questa. Il 30 di gennaio noi siamo andati, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Che fine ha fatto quel piano? Le regioni lo hanno applicato? Che cosa se ne sa? C'è un'interrogazione parlamentare su questo che attende risposta. Nel frattempo approfitto di voi che siete sempre così gentili. Grazie. Allora, rispondo io poi se il Professore vuole aggiungere qualcosa. Il Professore Locatelli lo può fare. Come ha detto lei, c'è un'interrogazione parlamentare. Il Ministero competente, il Ministero della Salute, che ha anche aggiornato il piano, quello del 2018. Per quello che ne so io, ero un piano per le pandemie influenzali. Non appena è venuto fuori il tema della pandemia da coronavirus, epidemia prima da coronavirus, il Ministero della Salute ha istituito una trasforza e si è incominciato a immaginare come fronteggiare il coronavirus. Quindi, rispetto anche a quel piano, sono state fatte delle valutazioni e poi si è arrivati anche alla formulazione del piano, come sapete, di contrasto con l'incremento dei posti nella terapia intensiva del primo di marzo, insieme con le regioni. è stata fatta una attività da parte del Ministero della Salute. Poi i dettagli io non li conosco perché si tratta di dettagli che riguardano la pianificazione sanitaria e in parte regionale, in parte anche però il Ministero che ha pianificato le azioni di contrasto alla pandemia. Quindi c'è stata un'attività organizzativa che ha portato poi al famoso piano di incremento delle terapie intensive e subintensive. Quindi su questo poi sarà più preciso il Ministero della Salute. Non credo che il professor Locatelli abbia degli elementi ulteriori rispetto al mio. Prego. Va bene, però mi scusi. Tutto, allora, quello è vero. Era un piano anti-influenzale, ma un piano che nasce, nasceva e nato sulla scorta, ripeto, di SARS, MERS, eccetera. Quindi prevedeva la presenza di virus e di pandemia da virus proprio perché il salto di specie, animale uomo, tutto questo. Cioè, chi osserva questi fenomeni aveva già visto che è tutto possibile e diventa sempre più possibile. Dunque, chiedeva che le cose, i progetti, gli obiettivi indicati nel piano antipandemico, chiedeva che fossero predisposti prima, non una volta scoppiata questa emergenza. Quindi la domanda resta cosa era stato fatto prima dell'emergenza, prima che scoppiasse l'emergenza, prima che andasse un'emergenza il 30 gennaio e cosa è stato fatto dal 30 al 21 di febbraio? Guardi, le dico subito, questo è un virus nuovo. Quindi come si può immaginare di, credo, di mettere in piedi preventivamente un piano di contrasto contro un virus che non si conosce? Però questi dettagli, mi permetta, sono dettagli che io non posso darle perché non è nelle mie competenze, non è mai stato nelle mie competenze quello della pianificazione dell'azione di contrasto all'epidemia. C'è il Ministero della Salute che ha coordinato queste cose per cui trasferirò loro le sue domande e faremo in modo di farle avere delle risposte precise. Comunque, grazie veramente per la vostra disponibilità che è stato un esempio di democrazia e di rispettamento di tragedia. Io vi ringrazio sentitamente. Grazie. Buonasera, sono Navarra di Aska News. Mi faccio un argomento che ha stato detto ieri da lei riguardo la task force in partenza, in programma e anche quella dei medici si era detto ieri. Ecco, in questo senso le volevo chiedere se sono previste anche altre figure, oltre a quella dei medici, anche infermieri. Insomma ecco, se le task force diventeranno tante, in qualche modo aiuteranno le aree più in difficoltà. Mi scuso ancora la lunghezza. Integreremo la task force, abbiamo detto medici, infermieri, mancano gli operatori sociosanitari, in particolar modo per quanto riguarda gli istituti penitenziari, le RSA, le case di ricovero delle persone disabili. Quindi stiamo predisponendo una nuova ordinanza per arruolare anche queste figure che mancano all'appello nelle strutture più colpite. Giorgia Cardinaletti, Tg1. Una domanda per il professor Locatelli. Io torno sempre sul tema dei decessi. Ne abbiamo parlato già diverse volte, però oggi sono 576. Quindi torna ad aumentare. Le persone a casa se lo chiedono. Sono sempre tanti. Quando cominceremo a vedere un decremento sostanzioso anche in questo senso? Grazie. Grazie a lei per la domanda perché mi offre lo spunto per condividere una riflessione su un'intervista che ho letto questa mattina da parte di un collega intensivista che lavora presso l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e il collega valente rianimatore, il Dottor Lorini, di fatto riportava che il numero dei decessi negli ultimi giorni è ritornato a essere simile a quello del numero dei decessi in epoca pre-Covid. E' chiaro che vorremmo tutti azzerare il prima possibile il numero dei decessi. Non a caso ho usato la definizione che questi eventi artigliano le nostre coscienze e le nostre sensibilità. E proprio per questo ho poi anche sollecitato la donazione come esempio di come un individuo, ognuno di noi, può fare qualcosa per aiutare gli altri. E poi, se mi permettete, in chiusura ci ritornerò specificando in maniera ulteriormente precisa come si diventa anche donatori di organo o di tessuti. E' certamente vero che il numero ci aspettiamo di vederlo ogni giorno scendere. Quando vediamo anche delle fluttuazioni in incremento, ognuno di noi ne rimane in qualche misura ferito. Però è evidente che c'è sempre quella distanza tra numero di soggetti che vengono ad essere contagiati e numero di soggetti che hanno poi un esito sfavorevole, un esito fatale. E' sicuro che anche il numero dei decessi scenderà ulteriormente. Ma dobbiamo avere sempre bene in testa questo proprio perché, grazie a quello che vi ho detto prima, il Dottor Borrelli si diraderanno le occasioni per me di essere qui. E' l'occasione per richiamare ancora una volta l'attenzione sulla necessità di essere assolutamente cauti, attenti nella ripresa sia della nostra vita sociale, sia delle attività produttive. Con l'implementazione, qui ritorno alla domanda della preparazione rispetto a determinati eventi, di cogliere gli eventi sentinella per far sì che quella che sarà auspicabilmente solo una riattivazione in focolai epidemici locali, tale rimanga e non assuma più la portata regionale, addirittura multiregionale, a cui abbiamo dovuto assistere all'inizio. Buonasera, Paola Motta, Sky Tg24. Sul tema dei numeri dei decessi, questa mattina il Dottor Rezza all'Istituto Superiore di Sanità ha detto esplicitamente che pur registrando un trend di decrescita, a metà maggio non ci saranno zero decessi. Ora ritorno sulla domanda della collega e cerco di essere ancora più diretta. Qual è la soglia? Qual è il numero di X decessi, X nuovi contagiati per cui voi del Comitato Tecnico o Scientifico dareste il via libera all'allentamento delle misure? Allora, grazie anche a lei per la domanda. È chiaro che potrei risponderle con una battuta il più basso possibile. Provo a articolarle meglio invece la risposta dicendo che tutto il grande lavoro che si sta facendo in questi giorni, e mi credo è un lavoro minuzioso in cui si prendono in considerazione tantissime variabili, da quelle del profilo lavorativo a quello degli spostamenti delle persone, dei mezzi di trasporto utilizzati, delle regole per rendere questi mezzi di trasporto pubblici più sicuri possibile. deve essere calibrato in maniera tale da permetterci di mantenere l'indice di contagiosità sotto la famosa soglia D1. Proprio perché sappiamo che quello è il parametro che ci permetterà di avere una situazione gestibile sia per il sistema sanitario nazionale sia per evitare di ritrovarci a ragionare sui numeri dei decessi in una maniera così sofferta come quella che abbiamo avuto in questi giorni. Ed evidentemente tutto questo permetterà poi di modulare le varie misure in funzione esattamente della capacità dei modelli predittivi di valutare questo mantenimento dell'indice di contagiosità sotto la soglia D1 e di impiegare dei sistemi di monitoraggio di sorveglianza e con questo, mi ripeto, per mantenere i focolai epidemici che dovessero in qualche modo ripresentarsi con una dimensione locale. Buonasera Filomena Rorro. Chi l'ha visto? Rai 3. Una domanda per il professor Locatelli sul virus e sulla contagiosità. Ci sono sempre molti dubbi. Quanto tempo si rimane contagiosi? Cioè la quarantena resta fissata 14 giorni o potrebbe essere aumentata visto che c'è stato qualche caso? risultato positivo ancora dopo 30 giorni e poi un'altra cosa. In Italia credo si sia verificato un caso a Verona, di una signora a Verona, ma in Corea del Sud 91 pazienti malati di covid ricoverati in quarantena. Poi due tamponi negativi vanno a lavorare, tornano nella vita sociale e poi una recidiva. Tornano positivi ricoverati. Quindi si tratta di persone guarite e contagiate di nuovo oppure falsi negativi e quindi occorrerebbero ulteriori tamponi? Non ne usciamo più. Grazie molte per la domanda perché in realtà poi presuppone anche una risposta articolata e direi quasi sfaccettata su vari aspetti perché implica differenti considerazioni anche di tipo biologico o meglio ancora immunologico per me particolarmente stimolanti da farsi. Partiamo con il primo aspetto. Lei dice la durata della quarantena. La durata della quarantena è stata fissata sulle due settimane ma col criterio molto preciso dei due tamponi negativi per i soggetti che erano conclamatamente positivi all'identificazione dell'RNA virale nel tampone rinofaringio per una ripresa di quella che è una attività, chiamiamola sociale piuttosto che lavorativa in funzione di quel che oggi è possibile fare rispetto alle indicazioni presenti nel DPCM per garantire che questi soggetti poi non siano contagiosi. Qualche soggetto sicuramente ha avuto persistenza di tamponi ben oltre i 14 giorni ma di fatto è evidentemente una spia della bontà del sistema di monitoraggio per una reintroduzione, diciamo così, di un normale contatto, di un normale stile di vita l'aver scelto la strada dei due tamponi negativi. Perché qualcuno cliri, cioè elimini il virus più o meno velocemente, è ragionevolmente influenzato da diverse variabili che possono far riferimento o alla carica virale, il viral load, come si chiama. È ragionevole ipotizzare che chi ha un viral load più basso possa clirare più facilmente l'infezione rispetto a chi ha invece una carica virale più elevata e all'efficienza della risposta immunologica contro il virus. E qui mi leggo alla seconda parte della sua domanda, cioè vere reinfezioni per provare a riesprimerla piuttosto che di fatto un processo infettivo apparentemente spento ma che poi sostanzialmente ha avuto una riaccensione. Mi capisco, non voglio minimamente mettere in dubbio i dati dei colleghi coreani, però come dire, mi sento più solidamente confortato quando questi dati li abbiamo derivanti dal nostro paese. lei ha fatto giustamente riferimento a un singolo caso. C'è la grande domanda, il grande punto interrogativo, che però nessuno di noi che abbia voluto presentare onestamente questo aspetto ha mai negato della durata dell'immunoprotezione. Ed è il motivo per cui abbiamo detto, tra le altre regioni, che questo contribuisce a evitare di usare inopportunamente il termine di patente di immunità. Noi sappiamo che la risposta anticorpale è un'indicazione di esposizione al virus, di contagio e di elaborazione di una risposta da parte del cosiddetto braccio umorale della nostra immunità al virus. Ma la risposta ai virus ha una forte componente del braccio invece cosiddetto cellulo mediato, quello che fa riferimento ai T-linfociti. e quando parliamo di anticorpi diretti contro SARS-CoV-2, parliamo di un mondo eterogeneo dove quello che ci interessa di più come medici, come immunologi, è la cosiddetta quota degli anti, o meglio il titolo degli anticorpi neutralizzanti. cioè quelli che prevengono l'azione di attacco del virus sulle cellule del nostro organismo e in particolare sulle cellule dell'apparato respiratorio e più specificatamente attraverso l'interazione con il recettore. Sono tutte domande a cui risponderemo solo con il tempo, ma conducendo degli studi rigorosamente ben strutturati e condotti con assoluta attenzione, non trascurando nessun aspetto. Buonasera, Giuseppe Scarpa è il messaggero. Sicuramente oggi sono stati forniti una serie di dati incoraggianti, però pare che siamo sempre nel plateau dei contagi. Quindi io vi chiedo quale sforzo si deve compiere per abbassare l'indice di contagiosità e portarlo da R1 verso R0? Cosa manca per centrare questo obiettivo? Grazie. Grazie a lei per la domanda. L'R0 è già sotto il valore di 1. Se vogliamo più o meno ipotizzare una stima attuale diciamo che attorno a 0,8, poi sia 0,83 piuttosto che 0,85, 0,78, insomma poco cambia. Dobbiamo esattamente impiegare tutti quei cinque strumenti di cui si è fatto largamente menzione in questi giorni. Cioè a dire il contact tracing, l'uso dei tamponi, i dispositivi di protezione individuale, la permanenza dei cosiddetti Covid hospital, l'implementazione dell'efficacia della medicina territoriale. Ci aggiungo però un sesto elemento che è quello della responsabilità dei comportamenti individuali. Daniele Petraroli, Tg2. Io volevo capire qualcosa di più sulla app e sulla fase 2. Innanzitutto il fatto che sia su base volontaria e non obbligatoria ovviamente per ragioni di privacy individuale non lo rende uno strumento poco utile. O meglio, se la scaricheranno solo pochi italiani, un milione di italiani che vantaggi può darci? La seconda cosa invece, sempre sull'app, come funzionerà il fatto di monitorare i contatti dei positivi? Io immaginavo che si facessero a quel punto dei tamponi a tappeto su tutte le persone che sono entrate in stretto contatto con il positivo, ma in questi due mesi abbiamo avuto delle difficoltà sui tamponi. Quindi aumenteranno molto oppure sarà un isolamento, insomma, come pensare di organizzarvi? Grazie. Magari inizio io, poi lascio complementare al Dottor Borrelli la risposta. Io credo che l'app rappresenti uno strumento di potenziale grandissima utilità. Prima quando dicevo responsabilità nei comportamenti individuali, largamente lo posso estendere anche alla disponibilità di dotarsi dell'app medesima, ma anche se per ovvie ragioni anche di rispetto della privacy è stata data come una possibilità, come un'opportunità. però mi faccia dire da medico largamente da raccomandare. Lei ha usato e magari chi ci ascolta non l'ha sentito il termine di appello e tranquillamente lo sposo e l'ho adotto ringraziandola per aver suggerito il tutto. È chiaro che fornirà degli strumenti anche per essere più mirati sulla conduzione degli studi di ricerca dell'RNA virale sul tampone. perché in questo modo evidentemente avremo uno strumento in più, ovviamente, che deve complementare quanto l'app riesce a fornirci per identificare i soggetti che sono in quel momento contagiati e quindi albergano il virus e contribuire a ridurre, e qui ritorno alla prima domanda che è stata fatta, il meccanismo di contagio domiciliare, domestico e familiare, come lo vogliamo chiamare. Quindi assolutamente è uno strumento molto utile. è uno strumento che può contribuire, assieme a tutto quello che abbiamo prima commentato, a gestire ulteriormente e al meglio la situazione per le settimane prossime e venture. Quindi pensate di utilizzare e fare più tamponi sulle persone oppure non è previsto, basterà l'isolamento di tutte le persone che entrano in contatto. Se ci avete già pensato, se state lavorando su questo. Allora io credo che la complementazione sia un aspetto assolutamente utile per meglio e più compiutamente definire i vantaggi e valorizzare i medesimi offerti dall'app. Bene, allora chiudiamo qui. Se non avete altre domande, permettetemi ancora una volta di far vedere quello che anche Silvio Bruseferro stamattina ha mostrato. Cioè l'invito a diventare donatori di organi e di tessuti. C'è il sito Diamo il meglio di noi dove è possibile andare a registrarsi. Anche questo credo che sia dimostrazione di attenzione per gli altri e prova di quello che l'Italia può dare in termini di biosolidarietà. Grazie. Grazie professore Locatelli. Allora ci vediamo lunedì alle 18.00. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.